Un tizio si rega dal dottore con la moglie per fare una visita. Non appena finisce la visita, esce dall'ambulatorio. La moglie va verso il dottore e gli fa Dottore, come sta mio marito? Il dottore fa Soffre di uno stato di tensione fisica e mentale dovuto a fattori esterni all'organismo. E che vuol dire? Che sei rotta il cazzo! Marito e moglie in salone. Lei sta a leggere Focus. A un certo punto se sofferma su un paragrafo che parla di scienza e gli fa al marito Pensiamo, sulla terra peso 90 kg Se fossimo su Marte ne peserai solo 35. E il marito si gira e gli fa Oh vedi, non sai Cicciona? Hai solo sbagliato pianeta. Test d'ammissione per diventare carabiniere. È il giorno dell'esame di matematica. C'è un ragazzo che non sa niente e a casa si è scritto tutte le tabelline sull'elastico delle mutande. Anche se mettassete davanti all'esaminatore. L'esaminatore vi fa Buongiorno, allora cominciamo con una domanda semplice. 3 per 3 Questo fa 9 Ah bene, preparato. 7 per 3 21 Bene, bene Vedo che lei è veramente preparato. Facciamo qualcosa di un pochino più complicato 9 per 9 81 Incredibile Finalmente Lei è uno dei pochi preparati Andiamo a qualcosa ancora di più difficile 100% Cotone C'è un vecchietto totalmente sordo che va dal dottore E il dottore gli prescrive un apparecchietto che gli fa ritorna perfettamente l'udito Anche io, questo lo monta e se ne va a casa Dopo una mesata ritorna per in controllo Allora il dottore come vuoi te li fa così? Buonasera, come va? Chissà quanto saranno felici i suoi familiari che adesso lei ci sente perfettamente E il vecchietto gli fa No, no, dottore Io non ho detto niente Fa Ah sì? E perché? Perché adesso mi limita a ascoltare Ho già cambiato tre volte il testamento Prima notte di nozze C'è una coppia di sposini che si mette a letto Lei si infila il letto tutta nuda Fa un po' di moina al marito A un certo punto il marito si gira dall'altra parte e si mette a dormire Mi sta dicendo il video La prima notte Seconda notte stessa storia Terza notte stessa storia Ma il quarto giorno conoscono un'altra coppia di sposini che stanno nello stesso albergo E insomma i mariti si mettono a parlare appartati E le due si confidano un po' di cose A un certo punto questa gli fa Io so tre giorni che sto sposato e mio marito non mi tocca Allora quell'altra gli fa Guarda se vuoi ti do un trucco, ti dico io come fare Fatemme perché non so più proprio come fa Allora facci così, senti che faccio io Io la sera quando ho voglia di fare l'amore Mi alzo dal letto tutta nuda Cammino verso il bagno Lascio la porta so chiusa Quando sono in bagno faccio finta di cadere in terra Quando mio marito viene lì Spalanca la porta e mi faccio trovare a gamba aperte Lui mi guarda e facciamo un sesso strepitoso per due ore Questa diciamo che di mo' stasera c'è proprio pure io Insomma che fanno? Vanno in camera, apri una coppietta Se mettono a letto, lei si spoglia tutta nuda Va verso il bagno, lo guarda con occhi ammiccanti Lascia la porta so chiusa Quando sta dentro, dopo fa finta di cadere E si mette a gamba aperta E il marito sente il baccano, capito? Arriva lì, spalanca la porta preoccupato La trova a gamba aperta Se la guarda gli fa Cristo santo, ci vorranno 20 punti Dal medico Il signore gli fa Ma insomma dottore, se può sapere che c'ho Il dottore gli fa Di preciso non si sa Lo sapremo bene solo dopo l'autopsia C'è un tizio che si regata al dottore Perché soffre di eiaculazione precoce E dura sempre pochissimo Insomma gli spiega tutto il suo problema al medico Fino a che il medico gli fa Guardi, sì ho capito qual è la sua problematica Allora, faccia così Lei, quando sta facendo l'amore con sua moglie E sente che sta per eiaculare Cerchi di provare uno spavento grosso Vedrà che l'eiaculazione si ferma E lei potrà continuare a fare l'amore Allora questo che fa? La prima sera torna a casa Capito? E mette in atto quello che gli ha detto il dottore Passa una settimana, dopo un po' torna al dottore E il dottore gli fa Allora com'è andata? Ha fatto come l'ho detto io? Fa sì, però è successo, ho un macello dottore Ma in che senso mi spieghi? E niente, comincio a fare l'amore con mia moglie Quando ho sentito che stavo per eiaculare Ho preso una pistola dal comodino E ho sparato un corpo in aria Gli fa, beh, ha funzionato Ma che? Mi moglie si è cagata sotto E il vicino di casa è scelto dall'armadio Che ha le mani in alto Il cervello, il cuore e il cazzo Se presentano all'Ips perché vogliono chiedere la pensione Insomma, se mettono a sedo nella sala d'attesa Fino a che arriva l'operatore e fa così Bene, voi siete qui per chiedere la pensione Allora, il cervello si alza in piedi E mi spieghi i motivi perché levo l'hanno in pensione E il cervello si alza e fa Guardi, dottore, io non mi ricordo più niente C'ho dei vuoti di memoria Soffro di equilibrio, c'ho un po' delle labirintite Gne la faccio proprio più Allora, quello fa Bene, sì, lei ha i requisiti per andare in pensione Poi si gira e fa Cuore, si alza in piedi e mi spieghi anche lei i motivi E il cuore si alza e gli fa Io soffro da rite mie Batto una volta sì e una volta no C'ho sempre dei tuffi al cuore Gne la faccio proprio più Guardi, voglio andare in pensione Bene, anche lei c'ha i requisiti Poi si gira verso il cazzo Cazzo, si alza e mi spieghi i suoi motivi E il cazzo se gira e fa così Ma scusi, sa Ma se me potevo ancora al sabo Venivo qui a chiedere la pensione C'è un tizio che inventa un computer super sofisticato E lui sostiene che è in grado di rispondere a qualsiasi domanda Allora, quando l'ha ultimato di montare Chiama il suo migliore amico e gli fa così Dai che testiamo il computer Prova a fare una domanda Vuoi scommettere che ti risponderà a qualsiasi domanda? Quello gli fa Dai proviamo Questo si mette davanti al computer e fa così Do sta mi padre adesso? E il computer fa così Tu padre sta al cinema Lui fa Sbagliato Mi padre è morto nove anni fa Hai visto che non funziona? All'amico tu gli fa No, c'è qualcosa che non va Prova a riformulargli la domanda in un'altra maniera Quello fa Vabbè Ci ripensa un attimo e fa così Do sta il marito di mia madre adesso? E il computer fa così E il marito di tua madre è morto nove anni fa Ma tuo padre sta sempre al cinema C'è un signore seduto sul divano Si spalanca la porta di casa Rientra la moglie e gli fa così Amore, sono rientrata E guardati, ho comprato la cena E ho preso anche una cassa di Ceres Senti, ma visto che stasera c'è la Champions Perché non fa venire tutti amici Tu a casa e vi guardate la partita E se vi va dopo andate pure a ballare E il marito se la guarda e gli fa così È grave? Lei gli fa E il parafango e il faro davanti è nato Lei a lui Caro, sono incinta A lui il mio corpo? Oddio, io non sono ancora pronto a essere padre Senti, è sul cornuto come stai messo? C'è un tizio Entra in un night Mentre cammina Gli viene incontro una ragazza Bellissima Con un stupendo vestito rosso Lui si avvicina e gli fa Mi scusi signorina Ma lo sa che quando vedo rosso Divento un toro? Lei si gira e gli fa Io invece quando vedo mille euro Divento una vacca La parzelletta di Geppo Siamo in un grande albergo lussuoso del centro C'è una signora che tutte le volte che alloggia lì Ha il vizio di prendere il sole completamente nuda Un giorno giustamente viene chiamata dal direttore dell'hotel La signora si lega nel suo ufficio e gli fa Signora, mi scusi La pregherei di non prendere il sole completamente nuda Al che la signora che è anche un po' facoltosa Se lo guarda e gli fa Mi scusi direttore Ma non ci sono edifici più alti dell'albergo? Gli fa Sì signora Ma lei è solo via sul lucernario della sala da pranzo La sveglia dei gladiatori Dimensione suona Roma Il ritmo della capitale Due cazzi vanno a fare una rapina in banca Entrano con i fucili spianati Farmi tutti questa è la rapina In quel momento dalla porta entra un vibratore Se girano Oh cazzo scappamoci a Robocop Siamo in una caserma di carabinieri E il capitale incontra il maresciallo e gli fa Maresciallo vada subito a prendere il treno per Firenze E il maresciallo via e gli esce dalla casa armata di corsa Dopo una mezz'oretta ritorna e il capitano guarda e gli fa Maresciallo E il treno? E hanno detto che gli serviva loro Un'infermiera si avvicina da una donna incinta sul letto e gli fa così Se vuole il papà del bimbo può assistere al parto E gli fa così No no guardi basta mio marito Un turista è in visita in un piccolo paesino Mentre cammina per le strade di montagna che lo portano a sto paese Gira una curva di intornante E vede a bordo strada un uomo a pecora Che i garzoni tirati giù col culo da fuori Questo mentre cammina fa Boh strano Gira un'altra due o tre curve E ne trova un'altra due Una a destra e una a sinistra A pecora tutte e due che gli culi da fuori per strada Questo dice boh stranissima sta cosa Va avanti e in altri tre così Al che come mentre entra al paese Si ferma la caserma di Carabinieri Scende Entra vada al maresciallo e fa Maresciallo mi scusi Io sono nuovo di questo paese Ma mi sono accorto che mentre venivo Per strada C'è tutta gente col culo da fuori piegata Ma che sta succedendo? Il valicello fa No no guardi stia tranquillo E' tutto a posto E' scappato un frocio dal carcere E l'avevo messa di trappoli Giovanni Di rientro da un viaggio a Roma Vado al parrucchiere a tagliarsi i capelli Mentre il parrucchiere taglia i capelli Gli fa Alla Giovanni Che ha fatto sto weekend? E Giovanni fa Oh sono stata a Roma Troppo bella E il parrucchiere fa Davvero sei stata a Roma? Ma hai visto il Papa? E lui fa No il Papa no E sei un cojone Vado a Roma a non vedi il Papa Giovanni si arse un po' embrunciato E se ne va a casa Ma ho passato una mesata E se ne va a ritagliare i capelli Quando se li mette a stare Il parrucchiere Insomma Che ha fatto sto weekend? E lui fa Un sciccheterai E sono ritornato a Roma Ma davvero un'altra volta? Stavolta l'hai visto il Papa? Lui fa No non ho visto E sei un cojone Giovanni fa E questa volta S'è un brociato Ma passano un paio di mesi Ritorna a tagliarsi i capelli Come se mette a stare E Giovanni fa così Oh mi sciccheterai Sono stato un'altra volta a Roma Lui fa Beh Hai visto il Papa? Oh stavolta l'ho visto sì Ma davvero? Gli ha baciato la mano Che ti ha detto? Fa sì sì Sono arrivato lì davanti Mi sono ginocchiato Gli bacio la mano Arso l'occhio Mi guarda nell'occhio Mi mette la mano in testa E mi fa Ma chi cazzo è quel cojone Che ti ha tagliato questi capelli? Un ragazzo Va a trovare il nonno anziano All'ospedale Quando arriva gli fa Nonno come va? Gli fa Eccoci eccoci Ma ti serve qualcosa? Sì guarda Fa una cosa Portami per favore Un pacchetto di preservativi Reservativi Ma che ce ne fanno? No perché stanotte Ho sentito il dottore Che diceva Infermiera Oh questo stanotte È una puttana Siamo al ristorante Ad un tavolo C'è una coppia Lui un uomo di mezza età E lei un po' in carne Però più giovane Al che a fine passo Si avvicina il cameriere E fa così Signori avete apprezzato La vostra cena? Voleva sì Guardi Tutto squisito Poi il cameriere Se gira il manito E fa così Come ha trovato la porchetta signore? E guardi Ho conosciuto da sei anni Fa una festa Ha 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 ha